terza pagina magazine ed eccoci qua di entrare in studio sempre qui dal studio uno si parca in roma web live social club tv e non solo quindi terza pagina magazine dal teatro passiamo a un'altra situazione di teatro e lo facciamo con il direttore artistico del teatro tra stevere e marco zorda buonasera a te marco ti sentiamo adesso mi senti perfetto 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 adesso si il collegamento va benissimo allora è teatro tra stevere prego nicolò con marco zorda e regista michele vidiello beh marco ben trovato ci interessa sapere soprattutto che aria si respira in questo momento così delicato perché qualcosa si sta muovendo ma non sappiamo ancora che direzione prendere quindi probabilmente tu in qualche modo ci puoi dare qualche informazione in più almeno così per quanto riguarda il teatro allora innanzitutto diciamo mi ha vantato di una situazione in questo momento di favore perché comunque io collaboro anche con l'edizione romana del roma del roma del roma del roma festival e il 26 di aprile ci dovrebbe essere solo la finale anche ci sarà la finale e quindi noi siamo logicamente in predicazione perché non sappiamo che il 26 deve fare la finale appunto in pretenza o no se ci fosse la possibilità sarebbero sicuramente in pretenza di un'autorità di passi abbiamo ancora alcuni noti da scogliere avete il coprifuoco diciamo che oggi c'è il sostituto dei ministri con le regioni che trago da una parte invece che si è stata un'altra quindi il coprifuoco alle 22 logicamente un po' staglia le gambe ma forse il biglietto farà come passo per il coprifuoco insomma ci sono ancora un po' di noti da sciogliere quindi diciamo che sicuramente il fatto che si possa riaprire è una cosa importante ma è importante perché comunque vuol dire che la pandemia sta andando verso una parabola ecco discendente certo i noti da sciogliere sono ancora tanti soprattutto per quello che succederà perché insomma siamo un po' in attesa di capire come ci potremo organizzare nel frattempo facciamo in modo che questa non sia un'attività semplice ma sia comunque un momento di di femmina e una stesa diciamo propositiva ecco non c'è facciamo in modo che questo processo che arrivi da qui all'area di studenti insomma definitiva e a a pieno regime sia comunque un processo che porti a qualcosa di nuovo ecco parlando di di novità so che è ancora precoce parlare di novità in un momento in cui bisogna ancora assestarsi anche psicologicamente ma secondo te il teatro da questa esperienza così particolare cosa ne ricava? Quali saranno le traiettorie per 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 riaprire da questo punto di vista in cartellone cosa si si spera di poter mettere? Ma diciamo che un conto è quello che succederà e credo succederà un conto è quello che spero succederà diciamo purtroppo le cose in questo momento credo che saranno un po' diverse c'è un desiderio sì da parte mia logicamente visto che siamo retti conto no tutti quanti che più noi siamo vicini perché il teatro ha una funzione soprattutto per le persone che vengono a vedersi che va fatto insomma per per gli spettatori va fatto per per la cittadinanza per la socialità tante di queste cose che erano date per contate adesso sono state rimette sul piatto soprattutto per rivendicare pazzi per rivendicare risorse ecco adesso però dobbiamo anche una volta insomma speriamo che ci siano dobbiamo anche poi dare seguito a questo diciamo a questo nostro riflettere su quello che noi abbiamo fatto per diciamo per far capire la nostra importanza ora diciamo dobbiamo metterlo diciamo nero su bianco e anche diciamo sulle asti del bancoscenico ecco quindi insomma mi aspetto che ci sia non tanto insomma nel repertorio ma appunto nei modi di fare teatro e di posti sempre più vicino a tipo venire agli spettatori ricordandoci che quest'atto di stare totalmente insieme in una stanza non è poi così spuntato come noi lo pensavamo ecco e quindi secondo te gli spettatori cominciano ad avere fame di teatro di eventi delle poltroncine rosse diciamo che sicuramente c'è molta fame di c'è molta fame di qualcos'altro che non sia stare a casa credo che diciamo andiamo verso una stagione calda e quindi credo che già qui diciamo nei prossimi mesi ci sarà comunque tanta voglia di stare fuori e forse diciamo dovremmo un po' cercare di stare all'aperto anche noi insomma anche noi anche noi diciamo che facciamo teatro con lo spettacolo dal vivo all'aperto e spero che in questo le istituzioni abbiano lecce per sentire il fatto di sburocratizzare perché altrimenti è difficile fare il stato all'aperto perché c'è molta burocrazia dietro quindi io credo che per i primi mesi noi dovremmo cercare di trovare tutte le istituzioni per diciamo abbellire e diciamo infiocchettare quello che possono essere le esperienze che mi vorrà fare insomma fuori di casa e all'aperto per un ritorno diciamo totale di tutti io credo che dovremmo aspettare insomma l'inverno cioè l'inverno l'autunno ecco anche perché poi organizzarsi bene in teatro si chiede tempo e quindi noi detestiamo di tempo per fare una stagione di un mese da qui non ce n'è quindi insomma quello che faremo sarà la socialità anche perché economicamente con la metà della capienza è anche complicato insomma capire cosa fare certo soprattutto per realtà voglio dire comunque circoscritte e di nicchia ovviamente i teatri non si deve pensare soltanto ai teatri quelli giganteschi ma si deve pensare a tutte quelle piccole realtà che fanno invece grande il teatro noi abbiamo avremmo 40 posti quindi insomma capire bene che 40 posti rispetto a 100 va rivista proprio l'idea di quello che noi facciamo il cabotaggio degli spettacoli che facciamo e per fare questo lavoro non basta un mese anche perché poi arriverebbe giugno e giugno di solito si chiude quindi ora diciamo si concentreremo su inventarsi qualche cosa che possa animare animare il nostro rione 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 trasferere animare insomma altri punti della città che ci verranno in mente che magari saranno disponibili ad essere animati e poi viene anche da quello e poi nel frattempo eccoci proprio parlando di rioni e di città cioè il teatro Trastevere è apparentemente un teatro che si trova nel cuore di Trastevere quindi con tutta la sua storia il folklore la cultura di una città quindi quanto troviamo nell'organizzazione negli spettacoli nelle prossime produzioni di tutto ciò che è il bagaglio culturale storico e attrattivo di questa Roma nostra come dico io visto che oggi è anche avuto un aprile sì 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 allora a livello diciamo a livello proprio diciamo di programmazione troviamo sicuramente quello che è il nuovo racconto di Roma sicuramente in questo momento Roma va raccontata in tanti modi in tanti modi diversi da quello che può essere un racconto diciamo un po' oleocratico senza nulla togliere logicamente ai carti della conflittura romana della storia romana e tutto quanto il resto in questo momento noi facendo un teatro abbastanza contemporaneo di nuova drammaturgia raccontiamo un po' la Roma di Edezzo e soprattutto lo facciamo anche con animità parallele nel senso noi siamo molto legati praticamente alle realtà del quartiere a tanta solidarietà che sono state in quartiere abbiamo fatto una rassegna in streaming diciamo e tutte le donazioni sono andate a tante realtà di solidarietà nel quartiere che durante questa pandemia sono fortunatamente fiorite anche inoltre logicamente noi abbiamo un rione che sembra rose e fiori ma non è così noi veniamo da un anno di Trastevere violenza veniamo da un anno che Trastevere sempre sulle pagine della cronaca veniamo da una Trastevere che piano piano viene depredata da sacchi praticamente a economie per fare ristorazione per fare il resto a Trastevere e diciamo di Trastevere vero rimane sempre di meno no? Certo E quindi il fatto di riportare nel rione delle cose vere e succede le cose veraci e di trovare anche un nuovo modello di vivere a Trastevere fa parte delle riflessioni che facciamo insieme ad altri attori culturali logicamente del quartiere e quindi diciamo al bilan di quello che è un ridere su Roma un raccontare Roma c'è anche un'attività diciamo sociale perché poi insomma ecco io racconto sempre questo Trastevere a 12.000 case ma abitate da persone solo 5.000 il resto sono tutti bed and breakfast sono tutte quante diciamo quindi svegliare la cittadinanza proprio Trasteverina è una bella impresa perché insomma uno pensa che sia il primo municipio ma in realtà ci sono insomma dei problemi magari sono diverse quelle periferie ma ci sono certo Marco io tra l'altro volevo ricordare che poi più tardi avremo come sempre appuntamento fisso qui a terza pagina magazine il presidente della federazione degli artisti Gino Uriuso e tu fai parte della federazione Volevo anche dare così un saluto poi da parte di Gino a te sì beh la federazione durante questa pandemia è crescita notevolmente grazie alla reputazione che si è stata creata e per la serietà con cui affronta i temi del nostro settore e li affronta in maniera seria in maniera diciamo propositiva stiamo portando delle proposte non soltanto contestando a priori quello che succede oppure a priori la politica perché se uno riesce a stare nei processi come si fa a favor riesce a portare la politica a delle decisioni che poi diventano funzionali per tutti perché una buona cultura a Roma ricade su quindi questo è importante è importante quindi insomma io sono dal 2007 nella Belisart e sono contento che su questa pandemia abbia le retini di molte situazioni sia dai tavoli i tavoli giusti per decidere per il meglio ecco volevo chiederti così da ricordare ai nostri amici ascoltatori tutti i contatti del teatro e dei vari social così da potervi seguire e sostenere anche nelle future attività di spettacolo abbiamo il sito www.teatrotrassevere.it anche la mail molto sempre www.teatrotrassevere.it avete qualche informazione e social siamo sia su Instagram sia su www.teatrotrassevere e niente noi adesso aspettiamo un po' di ufficialità e poi insomma abbiamo un po' di idee in cantiere abbiamo una domanda da un'ascoltatrice che chiede se volessimo presentare delle nostre opere come possiamo fare con il teatro Trastevere? allora è mandato una mail a un teatro al teatro Trastevere perfetto allora seguiamo tutti i vari riferimenti appena forniti poi speriamo di avere notizie da questa ascoltatrice di uno spettacolo magari in essere speriamo di potervi accogliere presto Marco io ti ringrazio veramente con tutto il cuore grazie a Marco Zorda di essere stato qui con noi a terza pagina magazine poi noi ci sentiamo dietro le quinte come sempre grazie Marco grazie a presto buona serata grazie a tutti